Dove lo fai? No no! Certo si è uscito dalle barbi Aspettate! Aspettate mi dico dove sono! Ok? Io odio Intersezione 1 ragazzi! Finalmente! Ed è finita Nooo Da 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 Nooo Lì sono sicuro odio Lì ero sicuro Solo mi saliva la gente sopra Non so perchè Questo non era un rutto giuro No no era un arruttoreggio Era un arruttoreggio C'è solo uno scheletro Neanche Veloci 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 Appunto è che è uno scheletro Torciare torciare No no vieni qua vieni qua devi chiudere Non devi torciare Aspettate 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 Dimmi il mio arco Non è il tuo arco Qualcuno ha del cibo Ho due Oh si ho 38 rotte in flash Ho quasi rotto uno spawner Hai il mio arco Si ho l'arco Ne ho due Dimmi Si è con il freddo No ne ho uno invece Ah ho anche una freccia se vuoi Si va bene Andiamo ad aiutare cece Perché c'è del vetro Dove lo vedo? Lana No davvero sei serio? Si lana Mi son chiuso dentro Un momento dov'è che sarebbe Lana bianca Bisogna trovarlo Era uno degli obiettivi Ma scusa ma dove sei? Aspettate Aspettate mi dico dove sono Ok Allora Dovete girare intorno Ecco c'è un buco A un certo punto buttatevi giù E vedete la lana Ah è nel buco lì lì dove l'ho chiuso Ah è sicuro? Si si vai vai C'è solo uno scheletro Vai vai Ma c'è uno scheletro If you cosa c'è scritto qua? Ragazzi vedo qualcosa Oh l'ho chiuso Ho preso la lana Oh 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 Ho preso tutto Non ci sono delle frecce Ho preso tutto dopo finito No Ma c'è del legno Non c'è legno If you want something good in your life Don't let it Prendete la lana Si va bene mamma No Non uccidiamoci a prendere la lana Dove lì? Bianca Ce ne sono solo due Quindi stiamo attenti Ce ne sono due Io no Eh no viene una Ah allora sono tre Siamo pazzi Allora C'è c'è tu che hai la roba importante Dove sei? Io che ho la roba importante No 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 Ho una spada Ho una spada Io cosa ho di importante La lana Se avete tipo due spade o così via Si Tieni Spada di legno Io mi tengo con la doro Tanto fa schifo uguale Poi ho una corazza d'oro Doro incantata con protezione spine Poi ho la metto io Poi c'è una corazza qua I pantaloni Ragazzi ragazzi Salite dalla scala per piacere Aspetta ci sono dei biscotti C'è una cassa con della TNT E delle torce di pietra rossa Non c'è una cassa Ci sono due cose di pietrisco Con scritto bomb here Oh Aspetta un attimo ragazzi Prima di fare cagate Prima di fare cagate Due cose di pietrisco dove? Ah lì Con scritto sopra bomb here Eh allora proviamo Aspetta uno Uno le bomba mette Ma non è che magari intende dire che dobbiamo rompere e mettere la bomba lì? Basta messaggi basta Aspetta guardiamo cosa c'è dopo però Eh netherrack Ah c'è della netherrack E' un checkpoint Ti riporta un pezzo del dungeon ok? Sì ma ma tu stai spaccando la TNT? No sto spaccando Eh sì se vi levate Vi vado giù ciao Anch'io vado giù Attivata Vado giù a mangiarmi i biscotti Attivata Attivata Ma mi potete dire cosa c'era dentro nella ceste? Eeeh Roba di merda Cioè non c'era mica del legno E' esploda Oh cazzo Torciate 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 Nessuna gritta Che c'è non venire No che c'è dai non puoi passarmi davanti Ti odio Cosa ti odio? Mi sei passato davanti Glosti No non è vero avete fatto opposta di te Vai via vai via vai via Scendi 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 No 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 Ecco Solo perchè non ci sono io E salvo sempre tutti Marco Aspetta c'è anche la tua roba Oh Però sono ancora terzo in fatto di morti eh Siamo a pari punti però Avete fatto apposta Cosa ho fatto apposta? C'era Gesù Giuseppe e Maria Solo perchè avevi paura che il death counter mi superassi nel death counter eh Bravo bravo mi vendicherò mi vendicherò Si 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 Ci sono i biscotti baggati qua Siete qua voi? Si siamo sotto il te Oh La mia lana Eh cattive idea cattive idea cattive idea cattive idea cattivi scendia Ok io mi disconnetto Si c'è sei in tutti noi Siamo morti che senso No io no Perchè? Perchè sei in tutti noi? Io non ho materiali ragazzi Non entrare Simo Non entrare Sto scendendo dalle scale io E tu ce la fai io no E non hai blocchi Sto arrivando con una cesta C'è io io forse Però non so in che No ne ho uno No però l'alluminitera Mamma che palle vuoi fare tutte le volte Non possiamo farci un letto Ci facciamo un letto con la pietra luce? No 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 Li sto ammazzando piano piano io Ecco ammazzali perchè io non posso loggare Cioè non capisci Porca puttana Si si muore ancora Sono 32 morti ma si può Eh beh si Oh bravo Simo Aspetta che mi mangio una cotoletta Sono salvo Dai dai Uggi quanti sono? Continuano ad arrivare Eh ce lo scuola grazie Metteteci un blocco di uno Metteteci un blocco di uno E' avercelo io Ce li ho io ma dobbiamo eliminare questi che se no si bugano i blocchi non te li fa pensare Dai è l'ultimo è l'ultimo No No si no Oddio un'esperienza ultra bugata No Visto Disconnesso Ma come li state ammazzando? A mano Ah quindi li stiamo ammazzando Li sto ammazzando a piglio Ah ti vedo Se volete io posso Voglio provare a entrare e metterci la glowstone Sono sotto di voi Ammazzate pure questo Ci abbiamo fatta Stanno continuando a spawnare Ho visto Ma c'è un cazzo di pezzato di glowstone di fianco Allora se volete io provo a entrare e a mettere e a 8 sino che lo sto colpendo Vaffanculo No mi avete riuscito a migli zombie No c'è un creeper incendiato Siamo salvi Si ma sono morto io Sono passato il secondo No non ci credo no 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 che schifo dai Io odio la mia vita E' l'entrata ma non ci credo mai nella vita No cazzo c'è il cartello Santo Dio Aiuto rompi il cartello Qualcuno rompe quel cazzo di cartello Ok Perché di si Fatto Cici fatto 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 Adesso adesso però qua ci sarà C'è una cesta qua Una spada, un accendino, una pozione della cura Delle mele Dammi qualcosa Cosa vuoi? No non serve accendentamente Vai tu dammi qualcosa Cosa vuoi? Dimmi cosa? Qualsiasi cosa Una spada Tu hai una pozione del danno Occhio dove la tiri Adesso Io ho solo 30 diluminite Dobbiamo cercare di raggiungere un'altra cosa diluminite Oh ci sono arrivato preciso Occhio è che non ho ancora fatto La glowstone il materiale perfetto per ogni cosa Non è per le rotaie Facciamoci una grossa base qua E infatti lo lasciamo tipo la la Eccoci vedo già degli zombie, vedo già degli zombie dentro l'entrata Eeeh Chi ha la dare? Li vedo anch'io Io non ho niente per combattere Vado con le ossa Io ho una pozione del danno Chi ha dei blocchi li usi O me li passi Ok vai tu vai tu Io ho la spada Quindi mi butterò tipo la riscosta Io ho la pozione del danno qui Aspetta aspetta Squint squinti fai una leggera scala Sali un po' No perché facciamo le scale Potevamo andare dritti Io ho paura delle scale Ho un pulsato per cadere Madonna mia Ci sono i creeper la occhio ne? Si tanto esplodono No aspetta ecco Non collegarti con il coso capito? Con? Con il terreno Non collegarti col terreno Andiamo a... Questi sono i blocchi Ecco Intendevo dire basta che non vai contro la cosa Che si esponono gli schemi Dai non puoi morire così andiamo a pari Oh mio dio quanta j Oh però vedo una figata assurda Secondo me lì è la zona della salvezza No! Occhio! Cazzo Ok Dai che mi salvate Eh? Dai che... Io non posso entrare a cura istantanea No squint 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 Unisci il ponte con quella roba lì di Glowstar Ok Eh si mi è partita via la 30 di blu Che avevo fatto Nooo Eh per sbagli... No bene non erano 30 blocchi Ok io ci sono ci sono sono chiuso tranquilli Sì ma noi vorremmo salvare anche la nostra di vita dopo la tua Grazie Vedi Eh se mi prolunghi un attimo Aspetta sto facendo una cosa un po' salva Che ci salva E anche perchè qua c'è uno scheletro che ci vive Eh lo scheletro sta puntando a me Eh sa che tu hai la lava Oddio ce n'è un altro Guarda che mira di schifoso che è lo scheletro Ragazzi? Quanti ma... Ragazzi? Eh... Ok dove cazzo sei? Allora nel corso di Glowstone dove ci sono tutti gli zombie Ok? Fai una scala verso il basso Non posso sono uscito C'ho tutti gli zombie a mezzo cuore No non tu non tu non tu non tu Vi prego salvate Ma ho preso al vulo Oh 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 No 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 tantchina da qui Si 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 Fermi tutti fermi tutti devo recuperare la vita Fermi 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 Dove sei dove sei? Sono chiuso sono chiuso per adesso E non mi muovo da qua finchè non ho raccolto un po' di Glowstone Occhio a dove se la rompete è perchè ci sono io qua dentro, capito? E che bello vedere ci sono questi punti Aiaia cos'è stato? Bastardo Raccogliate la Glowstone, andai che dobbiamo fare sto ponte benedetto Ho 19 blocchi Da la si può scendere perchè l'ho già fatta io la al ponte Però il problema sapete qual'è? Che davanti a noi, guardate chi c'è Ah non c'è più Ok Eh C'era un scherzo Eh Glowstone ragazzi Glowstone Tanta Glowstone Vai avanti che io ti faccio i lati Vai fai il lato destro C'è il sinistro quello lì Che si sto facendo? C'è un creeper che non mi piace Io ti faccio l'altro Occhio 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 L'ho visto l'ho visto l'ho visto Occhio Ok Che 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 sto piazzando? Ah ci c'è No ci c'è Aspetta fare quei bordini Chiudi la, chiudi lì, è bravo, no, 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 sì va bene, ok, ok, basta che lasci aperto un blocco Sto costruendo una casa sotterranea io Qua ci passano però i mobili, guarda che ci passano qua i mobili Non ho più blocchi, ho capito che non ho più No, mi è contentato Arriva un creeper, arriva un creeper, devo sacrificare No, 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 sacrificare No, se vuoi farti esplodere, fate esplodere Aia Cazzo, cazzo, ha fatto esplodere tutto No, non ha fatto esplodere tutto, dai, tranquillo, tranquillo Ne serve ancora un bel po' perché esplose un ponte Ho uno stacco E allora vieni Stiamo combattendo contro i mob No, ti devi muovere, ti devi muovere, veramente Adesso un attimo No, no, ti devi muovere Ho capito, eh Ok, vi ho lasciato nella cesta qualcosa Mi sono preso solo la gambiera d'oro Con protezione 3 Con protezione 3 Ditemi che c'è un checkpoint C'è un accetto Io prendo le frecce con l'arco Oddio, cosa vedo? Vedo chest, però Se riusciamo a liberare tutto Avete della glostone in più? Eh, ho un pezzo Ho nove blocchi Cioè, un pezzo di pulvere Eh, forse è una gran cregata No, 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 fermi, fermi, guarda, fai così Facciamo la prima parte adesso Ci sono dei tripwire rook Ci sono dei tripwire rook Prendi, prendi la, prendi le Le string, le string, le string, le string Dove sono? Eh, lungo il filo Io ho un arco a metà No, non ho le frecce Ne ho 23, ne ho 27, ne ho 27 Ma ragazzi, non c'è, non c'è C'è, dammi le frecce, dammi le frecce C'è, 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 c'è Non ho frecce C'è, ci sono frecce, ci sono frecce C'è un altro incantato Oh, passa, passa, passa Eh, lo uso io, un attimo Ok, 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 fai pure, fai pure Eh, non dovete venire, non dovete mettermi nel mezzo, però Buono Ragazzi, si mette Oddio, corazza Corazza, accetta torte, frecce Targhetta Alluminite, 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 farce Semi Winzagli, torte Dobbiamo tornare indietro a prendere tutta la roba Tutta la roba cosa? Ce l'ho tutta io Ah, ok Ho fatto una gran cagata Ho picchiato un Enderman Ho picchiato un Enderman Ho due Enderman Oh, no, 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 scherzo Oh, no, no, scherzo Eh, vi prendi No, sono vivo, sono vivo, sono vivo, sono vivo, sono vivo, sono vivo, sono vivo Ammazzato, ammazzato Torce, ragazzi, torce, torce, subito Però aspettate, abbiamo raggiunto l'intersezione Guardate i banner, che figata Guardate i banner C'è un villaggero che è sospeso Aspetta un attimo Cece, esci un attimo No, no, vai, vai, parla con Lenny, vai, prenditi il piccone Oh Yeah Abbiamo il picco Cosa ti dà? Oh mio Dio, 64 La testa di... Oh, oh, le ossa non le spreco manco morto Le stringhe, le stringhe possiamo usare Cece Ne ho due La bedrock da un... perché la bedrock da un nuovo di mucca? E questo... oh, c'è il checkpoint Siiii Sii davvero, si si Aspetta... Si Dove c'è un'intersezione di fianco Con la fama non me ne frega niente Cioè ci sono già degli scheletri Non è neanche iniziato il dungeon Mamma mia Guarda come lo prendo Qualcuno vuole Ah ecco c'è una cesta Ci dovrebbe essere un ender chest qua Dov'è che è l'endercest? C'è point innanzitutto Io metto la lana Non c'è un ender chest No Metto quello che ho trovato nella chest che non avete visto Avete detto che c'era un ender chest Intersezione 1 ragazzi Finalmente